Al Teatro Sociale di Sondrio approda una prima mondiale, una vera e propria opera totale. Si tratta di Alte Remi, prodotta in loco su commissioni di alpincena dal musicista Pier Giorgio Latti e dal direttore d'orchestra Lorenzo Passerini, due giovani che si sono messi in gioco scrivendo di proprio pugno un'opera che fonde diversi tipi di arte, in cui i confini si mescolano e si confondono, per creare uno spettacolo moderno e contemporaneo, una novità sotto tutti i punti di vista, come spiegato dal direttore artistico Pier Giorgio Latti. È un'opera che traccia sostanzialmente la storia della vita di Amy Winehouse, trasponendola però e utilizzandola soltanto come fonte di ispirazione per raccontare però quelle che sono le vicende dell'oggi, per cui dei contemporanei. Ad un certo punto Amy Winehouse si trasforma in quello che è uno dei personaggi dell'Orlando Furioso, Bradamante, in un sogno e come Bradamante rivive veramente quelle che sono le esperienze di Bradamante e dell'Orlando Furioso, però ritrasposte e rilette in una narrazione che è una narrazione originale, funzionalmente a quello che è lo scopo estetico, l'obiettivo che ci siamo posti nello scrivere quest'opera, che è quello di voler sostanzialmente esaltare l'amore per la vita, l'amore per le arti e soprattutto riscoprire quella che è la forza della collettività contro la forza dell'individualità. Diverse le figure che saranno coinvolte sul palco sabato 19 novembre, tra cui anche Bross Writer, il noto realizzatore di graffiti milanese, che realizzerà appositamente una tela dal duplice scopo, che si scoprirà proprio durante lo spettacolo. Alteremi vuole essere in esaltazione della positività e della vitalità, con l'obiettivo di coinvolgere qualsiasi tipo di pubblico a partire dai giovani. Dal punto di vista di generi, quest'opera mescola diversi stili, quindi parte da un linguaggio classico, ma si muove, si sposta anche su generi musicali più contemporanei, come il mondo del jazz, o il mondo della musica pop, o addirittura il mondo della musica dance, quindi techno e house. Si tratta di un vero e proprio esempio di teatro musicale realizzato con linguaggio odierno, in cui gli spettatori saranno vera e propria parte attiva. A rendere ancora più originale l'appuntamento è che l'opera non avrà inizio né fine. Il pubblico entrerà infatti in sala alle 20 e lo spettacolo sarà già in corso, e quando uscirà l'opera non sarà finita, perché sarà tutta nelle loro mani. Per approcciarsi al meglio a quest'opera, il pomeriggio precedente alla messa in scena, venerdì 18 novembre, dalle 18 alle 19, gli autori spiegheranno il significato dell'opera, mentre al mattino saranno le scuole ad incontrare questa realtà, poiché uno degli obiettivi primari, come già ricordato, è avvicinare i giovani al mondo del teatro e dell'opera. Per l'anno del 26, infatti, il costo del biglietto è ridotto a 10 euro. I biglietti saranno in vendita presso l'ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Sondrio, alla pianola di Sondrio, Van Radio, Morbegno e libreria Al Mosaico di Tirano, oltre che online al sito www.teatrosocialesondrio.it www.teatrosocialesondrio.it